Sono dentro di zaino e dagli altri, sai com'è? Se spariscono mi gireranno. Tanto sei il più bello lo stesso, lo sai. Perché ha perso qualche chilo d'olio una volta? Poca rola! C'è Già Di, come sempre, c'è Già Di. Ci sono delle esigenti particolari di mettersi insieme, dicicelo che vediamo se sei da lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.